ultimamente la parola crescita una connotazione negativa e per cui siamo abituati ad aggiungere più aggettivi perché devono in qualche modo qualificare questa crescita la crescita è qualche cosa che fa fiorire le persone che rappresenta lo spazio il luogo il progetto in cui le persone si sentono intanto libere e soprattutto di dare il loro contributo ecco questo è l'aspetto fondamentale non esiste decrescita felice esiste la crescita che redistribuisce le occasioni appunto di fioritura delle persone io credo che oggi abbiamo parlato di crescita in un senso più qualitativo che quantitativo in una visione che metta in equilibrio l'energia all'interno dell'azienda in questo senso i vecchi concetti la vecchia concezione di leadership come controllo ha completamente perso di significato di nel contesto di oggi e abbiamo fatto una battuta che penso abbia catturato bene il senso della chiacchierata in cui il controllo sostanzialmente è l'unica cosa che resta da fare ai capi mediocri ma siamo qua per disegnare un futuro migliore grazie 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 grazie